Mi chiamo Rita Mancuso, sono nata il 12 agosto del 1974 a Balata, in Sicilia, e sono qui per dirvi tutto quello che so sotto un salvorrini. L'incrapattamento è un massaggio, signor Giovese. Certo che da vicino fa tutto un altro effetto. Martini, sei cornuta e sbirro. Com'è che ti chiami tu? Rita mi chiami, allora. Nel mio paese è più grave riferire i fatti agli sbirri che ammazzare il tuo amico più caro. Poi Don Salvo decise di prendere il potere in tutta la Sicilia. E che succedeva se gli altri clan si rifiutavano? Immazzate. Oh, fu l'infame. Vai via subito, devi sparire al più presto possibile. Me lo direi. Dove mi portate? In località segreta. E da oggi si chiama Silvio Bonura. Questa ragazzina, senza rendersi conto per sette anni, ha fatto la tappa. Non esammo non c'è da buttare. Non la fate a me! Forse è un mondo onesto, non esisterà mai. Ma che ci impedisci di sognare. Forse, se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo. La fare, perché è stata una cosa? Sì, 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 sì. Sì, sì. Grazie.